La giostra di Porta Crucifera La giostra è stata ricollocata nella sua postazione. Tra i quartieri che attendono con maggiore fiducia e speranza questa giostra, c'è sicuramente Porta del Foro, sono passati esattamente 10 anni dall'ultimo successo che è datato a settembre 2007. E quello che sarà il rettore effettivo in piazza, Enrico Pelliccia, che sostituirà lo squalificato fracassi, pur di vincere ha fatto anche un fioretto. Sentiamo quale. Sì, lo ho già detto, tre diete non le ho fatte. Ora l'ultima mi propongo di farla in caso di vittoria anche a costo di perdere 20-30 kg. Quindi insomma è anche per la salute. Quindi diciamo che Innocenti e Vernaccini hanno anche questa responsabilità. Hanno questa responsabilità anche per la mia salute.